Senza patente, affari spenti in piena notte. I carabinieri hanno arrestato uno spacciatore dopo una spericolata fuga ad alta velocità sulla Milano Lecco. Nel seguimento è partito da Giussano attorno alle 22.30. L'atteggiamento del conducente di una Ford Focus ha insospettito una pattuglia che ha invertito il senso di marcia per fermare l'auto. Intimato l'alti, il guidatore ha prima finto di accostare, poi ha improvvisamente accelerato e, spenti i ha iniziato una corsa zigzag per le vie della città Brianzola. Poi, sempre affari spenti, con l'appunto dell'arma che lo inseguiva, sirene spiegate, ha imboccato la superstrada 36 fino all'uscita di Nibionno, dove è stata sbarrata la strada. Neanche il tempo di aprire lo sportello e tentare la fuga a piedi che il fuggiasco si è trovato braccato dai carabinieri di Giussano e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Seregno, che nel frattempo a bordo di una gazzella si erano messi all'inseguimento. Perquisito, è stato trovato in possesso di 16 grammi di cocaina, suddivisa in 22 dosi, vari telefoni cellulari e 50 euro in contanti. L'uomo, un 35enne marocchino, pregiudicato e in Italia senza fissa dimora, stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale aggravata, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica, nonché deferito alla prefettura per guida senza patente. Il 35enne, su disposizione della procura di Monza, è stato trattenuto all'interno delle camere di sicurezza della caserma di Seregno in attesa del processo per direttissima, che si è concluso con la convalida dell'arresto e la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e dell'Abrianza. Il proprietario del veicolo, un romeno residente nel Comasco con svariati precedenti a carico, è stato invece denunciato per incauto affidamento e ha visto il proprio mezzo sottoposto a fermo amministrativo.